Ciao a tutti, oggi parliamo della ipertrofia prostatica benigna nel cane maschio. Vedremo che più frequente nel cane maschio è rarissima nel gatto, anche perché in percentuale ci sono più cani maschi interi rispetto a gatti maschi interi dopo una certa età. È una patologia che si sospetta avvenga a tutti i cani maschi interi dopo i 5 anni e che fondamentalmente consiste nell'aumento di volume della prostata a causa dell'azione del diidrotestosterone. Ora, che cos'è la prostata? La prostata è fondamentalmente un organo dell'apparato genitale maschile che serve fondamentalmente per la produzione di parte dello sperma, quindi della componente prostatica dello sperma che serve poi chiaramente ad aiutare gli spermatozoi a raggiungere fondamentalmente l'ovulo. Fondamentalmente cosa avviene? Come avviene nell'uomo? Abbiamo questo aumento di solito bilaterale, eccentrico, a differenza dell'uomo, quindi con meno compressione uretrale. Nell'uomo l'ipertrofia prostatica benigna dà ovviamente parecchio dolore e tendenzialmente nel cane invece di solito il proprietario ci porta il cane perché magari vede del sangue nelle urine, c'è un po' di ematuria, chiaramente quando facciamo magari raccogliamo lo sperma può esserci emospermia. Tendenzialmente potrebbe avere anche difficoltà alla defecazione con tenesmo del colon perché fondamentalmente una delle caratteristiche quando abbiamo l'ipertrofia prostatica benigna è quella di avere le feci a nastro. Vi metto qua sopra un bel video sulle feci, come devono essere, le caratteristiche e se ci sono delle cose strane, cosa potrebbe essere, cosa non potrebbe essere. Andatevelo a vedere poi. Fondamentalmente abbiamo detto l'azione dell'idrotestosterone sulla prostata quindi la terapia che parleremo poi successivamente è quella di andare chiaramente a bloccare l'azione del testosterone e le possiamo fare in due modi. Prima però di arrivare alla terapia parliamo della diagnosi. Come si diagnostica fondamentalmente sicuramente l'anamnesi e la visita clinica sono molto importanti e poi a livello di esami strumentali è importante la radiologia addominale perché tramite delle misurazioni, prendiamo come puntiere per di solito il bacino e la lunghezza della prostata, possiamo valutare tramite ovviamente una formula se c'è un ingrossamento della prostata. Inoltre l'esame ecografico ci permette chiaramente di valutare la prostata nella sua completezza andando a valutare se ci sono anche delle cisti. Ricordiamoci che l'ipertrofia prostatica benigna può essere anche un'ipertrofia prostatica benigna cistica e quindi valutare chiaramente se esistono anche delle cisti prostatiche. Fondamentalmente come detto la terapia è andare a ridurre l'azione del testosterone e lo possiamo fare in due modi. La prima chiaramente la più semplice è quella della castrazione. Cioè castrando il cane chiaramente andiamo a ridurre la prostata perché non c'è più una quantità di testosterone così elevata da far sì che la prostata diventa più grossa. La seconda cosa che invece se dobbiamo mantenere l'animale intero per un discorso riproduttivo oppure perché è molto anziano e non vogliamo effettuare un intervento chirurgico oppure perché non vogliamo andare a disturbare dal punto di vista comportamentale la situazione perché magari il medico comportamentalista ci ha suggerito che quel cane è meglio non castrarlo fondamentalmente in quel caso lì è consigliabile utilizzare un farmaco che è l'osaterone acetato che fondamentalmente cosa fa? Va fondamentalmente a mettersi al posto dei recettori del testosterone quindi va a competere fondamentalmente con i recettori del testosterone non facendo ovviamente entrare il testosterone nella prostata e quindi la prostata non si ingrossa. Questa ovviamente è una terapia medica che chiaramente è una terapia di solito di 7 giorni che di solito funziona poi per diversi mesi poi andrà ripetuta chiaramente rispetto ovviamente alla castrazione che invece è definitiva. Che effetti abbiamo sullo sperma quando abbiamo l'ipertrofia prostatica benigna? Allora fondamentalmente la libido e la qualità dello sperma non vengono compromesse però la componente prostatica è notevolmente ridotta inoltre a livello proprio di crioconservazione possiamo chiaramente avere dei problemi perché fondamentalmente l'emoglobina aumenta la fragilità degli spermatozoi e quindi abbiamo dei problemi durante il congelamento e scongelamento dello sperma. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!